Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo che quest'oggi incontra per la prima volta un'albergatrice che ci parla della sua attività ma con una bella storia, alle spalle sono ben sei generazioni che la famiglia Pra gestisce dapprima un albergolo storico hotel alla posta e poi altri due alberghi di cui parleremo con la nostra ospite, quindi saluto Francesca Pra, benvenuta Francesca, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora abbiamo in questi studi nonno Floriano, papà Sergio e adesso per la prima volta incontriamo te, sesta generazione di albergatori, dapprima ho inquadrato giusto l'hotel posta alla posta Caprile e adesso sport hotel Arabba e hotel Alleghe, sei cresciuta in una famiglia di albergatori con quindi l'ospitalità alberghiera che ti è stata trasmessa ma hai anche compiuto degli studi importanti anche alla Bocconi se non sbaglio? Sì, allora io sono cresciuta appunto in questo settore, ho lavorato fin da piccola nell'hotel alla posta inizialmente però ho fatto degli studi anche al di fuori diciamo della nostra zona, prima le scuole superiori vicino a Bassano del Grappa e poi avevo deciso di spostarmi a Milano dove mi sono laureata all'università Bocconi perché inizialmente il mio diciamo il mio desiderio era di lavorare fuori dagli hotel, provare un'esperienza nuova e così ho fatto, ho lavorato due anni in consulenza in Ernst & Young però poi diciamo che il richiamo alla famiglia e a quello che è la nostra attività che appunto noi portiamo avanti da più di 150 anni è stato molto forte, io a quel punto una volta vista l'esperienza a Milano e quindi l'ambiente nelle aziende dove comunque fai un'esperienza molto forte, molto costruttiva dove però manca diciamo tutto quel lato della famiglia, del collaborare insieme, sono proprio due ambienti molto diversi e quindi a quel punto ho deciso poi di tornare a casa per poter dare il mio contributo assieme a mio fratello Alessandro che ha sei anni più di me e che già era lì nei nostri hotel, quelli nell'hotel alla posta e presso lo sport hotel Europa e ho deciso di tornare insieme a lui, a mio padre e mia madre per continuare questa nostra, questa tradizione e questo apporto che andiamo anche al nostro territorio, insomma al turismo nel bellunese. Certo, una storia di unità familiare, hai citato il fratello, il papà la mamma e quindi vi gestite voglio dire in modo differente i ruoli negli alberghi perché attualmente sono due, poi parleremo anche dell'hotel Allega appunto, come vi organizzate diciamo così all'interno della famiglia? Allora, noi ovviamente lavoriamo inverno e estate, siamo aperti con gli hotel e siamo divisi tra virgolette in due squadre, quindi siamo io e mio padre presso l'hotel alla posta e mio fratello e mia madre nello sport hotel Europa perché ovviamente abbiamo bisogno proprio di essere presenti in maniera consistente e suddividendoci perché a rotazione nei due hotel non sarebbe possibile, questa è la suddivisione che noi teniamo a livello operativo nelle stagioni. In tutto l'arco dell'anno perché noi appunto oltre all'operatività proprio giornaliera che abbiamo nelle aperture lavoriamo ovviamente anche nel back office, quindi anche nel fuoristagione quando siamo chiusi, lì siamo un gruppo unico, siamo una famiglia unica che pensa a tutto ciò che è i nuovi investimenti, tutto ciò che può essere il nostro futuro e l'organizzazione poi degli hotel nelle varie stagioni. Certo, hai citato giustamente il lavoro dell'albergatore non è soltanto in stagione, noi potremmo pensare vabbè chiudono la stagione e magari se ne vanno in vacanza due mesi, invece c'è proprio il dietro le quinte e la ricerca del personale, ecco a questo proposito quanti collaboratori avete? Noi contiamo circa 40 persone adesso e come dicevi tu Claudio è molto importante la parte del fuoristagione perché lì si va a costruire la stagione che verrà, quindi tutto il lavoro, noi quando apriamo gli alberghi abbiamo già un booking che è ben organizzato, non ci possiamo permettere avendo due alberghi anche grandi di avere delle settimane su cui ancora dobbiamo lavorare, ancora dobbiamo prendere appunto delle prenotazioni, quindi c'è tutta questa parte operativa dove abbiamo anche dei collaboratori ovviamente che ci aiutano e poi c'è tutta la parte più strategica, quindi tutto il lavoro che noi facciamo ad esempio che abbiamo fatto adesso per l'acquisizione del nuovo hotel. Un tema che in questo momento è molto forte nel settore turistico ma non solo è la ricerca del personale perché da quando c'è stato il covid è molto difficile trovare delle persone valide, trovarle e trovarle valide, quindi questo è un po' forse il fattore che va a scoraggiare tanti anche dei nostri colleghi. Noi abbiamo una base di persone storica che lavorano con noi da tanti anni e sono coloro che ci permettono di offrire un servizio di qualità, però assieme a queste persone noi dobbiamo sempre cercare dei collaboratori, delle nuove persone che appunto vadano a colmare tutti gli spazi per cui noi cerchiamo diciamo un impiegato, una cameriera di sala e questa è la parte molto difficile, dobbiamo iniziare molto molto prima. Se ritrovano collaboratori qui della provincia di Belluno oppure dovete andarli a cercare da altre regioni se non addirittura da altri stati? Noi abbiamo le persone diciamo i capi servizio quindi capi settore principalmente dei due hotel quindi dell'ufficio, ristorante, cucine che sono della zona, abbiamo poi tutte le altre persone invece che sono italiane però fuori regione e straniere e la nostra diciamo fortuna se possiamo chiamarla così il nostro punto di favore è che offriamo un alloggio e quindi questo ci permette di ampliare la ricerca in altre in altre zone altrimenti sarebbe molto molto difficile. C'è parlato il nucleo di collaboratori storici e clienti storici immaginiamo special matera alla posta con una lunghissima tradizione abbiate anche dei clienti ricorrenti, c'è magari una famiglia o una persona che ricordi che magari arrivano da svariati anni, decenni magari? Noi abbiamo fino a qualche anno fa avevamo molti clienti storici, adesso ne abbiamo qualcuno, diciamo che il turismo sta cambiando cioè se io vedo la mia generazione non è più una generazione che va sempre nello stesso posto, una volta avevamo i clienti che facevano anche i due mesi in montagna, adesso ne abbiamo ancora qualcuno che fa il mese, che fa le tre settimane però sta proprio cambiando il modo di vedere la vacanza. Certo. Quindi sono clienti affezionati, clienti a cui noi teniamo molto ma sappiamo che dobbiamo anche investire su un altro tipo di clientela no? Certo. Quindi in altro modo anche una vacanza si prenota credo sempre più all'ultimo momento magari meno giorni quindi più flessibilità più lavoro anche da parte vostra e maggiore organizzazione credono. Sì noi abbiamo l'hotel alla posta che lavora molto sulle settimane ancora, se guardiamo lo sport hotel Europa che è sul lago di Alleghe loro soprattutto l'estate hanno dei cambi giornalieri anche quindi hanno arrivi e partenze tutti i giorni, questo crea molto più lavoro ovviamente per tutti i reparti e abbiamo anche dovuto come posso dire adattarci alle nuove politiche ad esempio alle politiche di booking che sono politiche molto flessibili che creano molta concorrenza perché ovviamente il fatto di avere un portale che dà dei termini di cancellazioni molto ravvicinati e magari a volte anche dovendo restituire una somma di denaro che copre l'intero soggiorno non è una difficoltà da poco però siamo riusciti a aggiornarci rispetto a queste nuove politiche e ormai il mondo è questo insomma non c'è più la prenotazione dei cinque mesi prima dove questa cosa ancora vale forse per gli stranieri che devono appunto anche organizzare il viaggio per arrivare. Assolutamente, ecco veniamo all'ultimo tema ma non di minore importanza abbiamo parlato di hotel alla posta, sport hotel Alleghe e adesso hotel Alleghe, un nuovo investimento, una nuova sfida per la famiglia Praccio, ne vuoi parlare? Noi abbiamo acquisito l'hotel Alleghe per ampliare soprattutto il numero di posti letto che abbiamo a disposizione. L'hotel Alleghe è composto appunto da una parte di stanza, una parte di ristorante e bar e quando abbiamo pensato a questo nuovo investimento abbiamo detto ma perché non facciamo qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso perché quello che noi abbiamo portato avanti con i miei genitori, i miei nonni, tutte le altre generazioni sono appunto questi valori della tradizione, dell'ospitalità che sono ben ancorati nel nostro lavoro però volevamo dare anche un nuovo spunto quindi con questo hotel che si chiamerà Nature Lodge vogliamo riportare un po' il cliente a vivere la natura che abbiamo intorno a noi che è una risorsa inestimabile che abbiamo le dolomiti, però proprio riuscire a ricreare questo valore anche all'interno dell'hotel quindi utilizzando materiali che ci riportano proprio a ciò che abbiamo intorno quindi alla natura, all'utilizzo del legno ma anche a prestare attenzione all'utilizzo di questi materiali e quindi anche i processi all'interno dell'hotel per favorire quindi il riciclo, il riutilizzo e l'utilizzo efficiente delle risorse. Questo è un po' quello che noi vogliamo fare con questo nuovo hotel. Certo, un hotel di nicchia quindi con quante camere? È proprio nel centro di Allè che quindi vicinissimo anche agli impianti risalita quindi anche a stretto contatto con la natura quindi pertinente anche questo connubio all'interno dell'hotel ma anche fuori. Sì, allora l'hotel avrà 22 stanze, noi abbiamo apportato degli ampliamenti rispetto a quello che c'era prima, è a fianco agli impianti quindi questo diciamo che è un grosso punto a favore per il cliente perché se con gli altri hotel deve prendere una navetta per arrivare agli impianti qui esce dall'hotel e arriva proprio davanti quindi è molto molto comodo. Apertura prevista Francesca? Apertura prevista per giugno 2024. Allora, beh siamo verso la fine, diciamo che il tuo esempio è eloquente anche per i giovani perché quello che forse si lamenta la mancanza è proprio il ricambio generazionale negli albergatori. Tu potresti suggerire a qualche tuo collega giovane magari di fare questo mestiere, ti dà soddisfazioni? Allora, innanzitutto quello che ci contraddistingue a mio avviso è proprio il significato che noi diamo alla nostra famiglia. Questo è un valore che ci è sempre stato insegnato e riportato ma anche proprio effettivamente, quindi il collaborare insieme per un unico scopo e questo deve essere fondamentale. Se io non avessi avuto l'esempio di anche mio padre e mia madre che comunque anche lei si è dedicata totalmente all'attività degli alberghi, anche a volte mettendo da parte altre esperienze che magari avrebbe voluto fare, questo non sarebbe stato possibile. Lo stesso mio nonno Floriano, lui ha sempre, anche quando eravamo piccoli, insistito molto perché noi facessimo parte di questo ambiente. Dall'altro lato credo che sia importante anche fare delle esperienze al di fuori, perché? Perché a quel punto puoi apportare qualcosa di nuovo, altrimenti quello che succede è che porti avanti un modo di lavorare che è sempre lo stesso e magari non aggiornato. Un'ultima domanda, un pensierino a vita amministrativa, visti i precedenti di tuo papo e tuo nonno, ce lo facciamo oppure no? Ma al momento no, al momento no, visto gli impegni che abbiamo già con gli hotel. E allora Francesca ti ringraziamo molto, adeguiamo veramente un buon lavoro a te e a tutta la tua famiglia, grazie di essere intervenuta. Grazie mille. E a voi tutti grazie per il gentile ascolto e visione e l'appuntamento rinnovato. Alla prossima settimana. Alla prossima settimana.